in questo numero di salute magazine giornata mondiale del rene avanti sulla prevenzione professioni della sanità progressi contro il gender gap certificazione della parità di genere per la sanità ferrarese fisioterapia a milano la prima edizione del salone professionale fif sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie renali questo lo scopo del convegno che si è tenuto alla camera in occasione della giornata mondiale del rene l'incontro che si è focalizzato sulle necessità dei pazienti e sulle nuove frontiere dell'assistenza è stato realizzato con il contributo non condizionante di astrazeneca a stellas e bayern italia con il patrocinio della fondazione italiana del rene e della società italiana di nefrologia il vice presidente della camera dei deputati giorgio mulè e il presidente della dodicesima commissione ugo capellacci la giornata mondiale del rene coincide con la presentazione di una proposta di legge che introdurrà in italia lo screening su tutti coloro che hanno una predisposizione a contrarre le malattie croniche renali significa intervenire per tempo dando una speranza di vita molto più lunga rispetto attuale ridurre i pazienti che vanno in dialisi e soprattutto farli vivere meglio attraverso lo screening questa proposta di legge a prima firma del presidente mura si consente di arrivare a una diagnosi precoce e si consente quindi di risparmiare veramente vite umane prima di tutto che questo già basta ed è estremamente importante qualità della vita altro aspetto estremamente importante e risorse basti pensare a due dati che la malattia nello stadio uno e due costa circa 400 euro l'anno sistema sanitario nazionale la malattia nello stadio quinto e purtroppo spesso essendo una malattia silente ci si accorge di averla solo nella fase finale costa oltre 50 mila euro l'anno nel corso dell'incontro che ha visto la partecipazione di numerosi esperti è stata sottolineata la necessità di promuovere l'informazione e la sensibilizzazione per preservare la salute dei reni il presidente della fondazione italiana del rene massimo morosetti e il presidente eletto della società italiana di nefrologia luca di nicola le malattie renali ormai sono conosciute come una pandemia interessando quasi il 10 per cento della popolazione occorre sensibilizzare tutti sull'importanza di prevenirle e di diagnosticarle precocemente perché se diagnosticate precocemente possono essere trattate in maniera realmente efficace a parte la giornata mondiale del rene ce ne abbiamo anche il deposito del disegno di legge sullo screening della malattia renali cronica questo disegno di legge è fondamentale e perché noi abbiamo che la malattia renali cronica vive un grande paradosso è una malattia ad alta prevalenza è una malattia ad alta pericolosità ma è una malattia oggi trattabile oggi abbiamo un'innovazione terapeutica che ci consente di mettere in remissione quindi di fermare la progressione della malattia renali cronica qual è il paradosso che dobbiamo riconoscere precocemente questi pazienti per poterli trattare una sempre maggiore consapevolezza ma anche tanta strada da fare per la parità di genere e quanto emerge dall'indagine del progetto segea sex gender approach promosso dalla federazione nazionale degli ordini delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione che ha cercato di fare il punto sulle questioni di genere nell'ambito professionale la presidente teresa calandra e il consigliere del comitato centrale giovanni debiasi in tema di medicina viene precluso un diritto alla donna e cioè quella di avere delle cure che siano personalizzate appropiate al suo genere sesso e pertanto su questo noi ci vogliamo spendere affinché all'interno dei corsi di laurea venga dedicato più tempo e più formazione cosicché i nostri professionisti sanitari possano guardare la medicina di genere con una cultura diversa e un'attenzione diversa è stato avviato un questionario anche con l'aiuto dei referenti questo questionario è stato somministrato in in un mese tra giugno e luglio del 2022 in un mese abbiamo raccolto 6.000 aderenze quindi 6.000 persone hanno hanno completato il questionario da questa mole di dati siamo riusciti a capire più o meno l'orientamento delle nostre professioni e siamo stati in grado di poter effettuare delle azioni correttive tramite due FAD due quindi informazioni a distanza sulla nostra piattaforma digitale e sono stati soffruite da 19.000 dei nostri iscritti in un anno che sono stati sulle piattaforme. Nella giornata internazionale della donna a Torino sono stati presentati i dati di ogni singola professione rappresentata dalla federazione nazionale in tutto 19. Deborah Balbino referente del progetto SEGEA per le professioni sanitarie. Quello che l'analisi dei dati delle singole professioni ci ha permesso di scoprire ad esempio è che ci sono delle realtà professionali quale quella dei tecnici della prevenzione dell'ambiente nei luoghi di lavoro che rappresento che si discosta da quello che invece la media di tutte le professioni e per costituzione e per sensibilità e anche per tutta una serie di aspetti legati alla professione che sono decisamente peculiari. Le aziende sanitarie ferraresi hanno raggiunto prime a livello nazionale la certificazione della parità di genere. Un traguardo e a contempo un punto di partenza per l'azienda USLE e per l'azienda ospedaliera universitaria che hanno sviluppato un unico e condiviso sistema di gestione della parità di genere curato in modo adeguato e conforme. Il risultato è stato celebrato nel corso di una tavola rotonda in occasione dell'8 marzo, giornata internazionale della donna. Monica Calamai, direttrice generale delle aziende sanitarie ferraresi e Simonetta De Luca Musella, coordinatrice del gruppo GL04, diversità, equità e inclusione dell'Uni. È molto importante pensare che non sia solo un pezzo di carta ma è solo l'inizio di un percorso, un percorso importante che implica necessariamente un cambiamento culturale complessivo e anche una rivisitazione di quello che è il sistema aziendale proprio per andare a ridurre fino ad eliminare quello che è il gender gap che è presente anche nelle aziende sanitarie pubbliche in questo caso. Mentre altrove nelle aziende private la chiamata è diretta, può essere diretta a seguito di un colloquio. Ovviamente in un'azienda pubblica il tutto deve essere attraverso bandi con una commissione esaminatrice. Riuscire a oggettivare un percorso paritetico di selezione, non è banale, poteva fondarsi soltanto su una procedura che poi abbiamo dovuto mettere a posto soltanto se alla base c'era già una struttura adeguata. Durante l'evento alla Sala della Musica Maria Gabriella Raso, componente del Direttivo Nazionale ANAO Giovani e del Gruppo Formazione Femminile di ANAO, ha affrontato il tema delle molestie in ambito ospedaliero. Per poter avere la certificazione di genere è necessario valutare anche questo fenomeno, le molestie sessuali sul lavoro. Quindi già il fatto stesso di valutare la presenza di questo fenomeno è già innovativo perché è un fenomeno che in ambito sanitario difficilmente è emerso finora. Per tre giorni l'Allianza Mico ha ospitato FIF Milano, salone professionale di fisioterapia. Un momento di confronto tra professionisti del settore e occasione per esperti e visitatori di conoscere gli ultimi ritrovati tecnologici nel settore. Oltre agli stand espositivi, la fiera ha offerto un ricco palinsesto di conferenze e workshop. Ci troviamo di fronte alla prima manifestazione italiana di questa importante fiera che non è altro che la replica di edizioni già prestigiose che si sono svolte in Spagna. I numeri di questa prima edizione sono importanti, non ce li aspettavamo ma sono già abbastanza rilevanti. 5.000 professionisti del settore in queste tre giornate appunto e abbiamo un totale di espositori di circa 98 marche diverse che vengono sia dall'Italia che dall'ambito internazionale. Fra i tanti eventi in programma, l'Ordine dei Fisioterapisti di Milano ha organizzato due incontri formativi sugli aspetti normativi della terapia invasiva e delle strumentazioni avanzate per la fisioterapia. Il tema è il punto di partenza per un approfondimento che continuerà in occasione della Milano Fisio Week in programma dal 24 maggio al 1 giugno e a seguire il 7-8 settembre, giornate cruciali per discutere delle terapie e i confini della professione fisioterapica. Il presidente dell'Ordine Interprovinciale di Fisioterapisti di Milano, Angelo Mazzali. Ringraziamo gli organizzatori della FIF per averci concesso e per averci ospitato all'interno di questa loro iniziativa. Per noi diventa fondamentale perché l'aspetto commerciale non può essere separato da quello della nostra professione ma soprattutto per il fatto che qui è diventato un luogo di aggregazione dei liberi professionisti. Noi pensiamo sempre al fisioterapista all'interno di un contesto ospedaliero ma più del 50% dei nostri colleghi sono liberi professionisti e quindi diventa fondamentale avere un punto in cui ci si trova e ci si può confrontare. Questa è stata una bellissima iniziativa che ci permette di fare questo con i nostri iscritti e quindi di stare vicino molto a quello che è il mondo della libera professione.